Consigliere Scurati ha convocato un'audizione in Commissione di Attività Produttive per discutere di un'avvertenza che riguarda un'azienda di dolci, di che cosa si tratta? Sì, ho chiesto un'audizione in Quarta Commissione, la Commissione delle Attività Produttive, legata alla situazione che stanno vivendo alcuni dipendenti della Dolcissimo Solo Italia di Ios, una provincia di Milano. Io conosco bene, sono stata sollecitata a fine anno da alcuni lavoratori preoccupati perché nel passaggio tra la vecchia e la nuova azienda non tutti avevano la certezza del rinnovo del contratto. Un'azienda che comunque si presenta come solita, un'azienda importante anche per il nostro territorio e quindi abbiamo ritenuto insieme anche al Presidente della Commissione Quarta opportuno convocarli con un certo urgenza, visto che l'avvertenza sindacale è stata annunciata intorno al 30 dicembre e quindi convocarli in modo urgente in Commissione per ascoltare la loro voce, per capire, come sempre fa Regione Lombardia, in che modo si può aiutarli o mettere al tavolo la parte sindacale, quindi le rappresentanti lavoratori insieme alla parte aziendale. Quindi la speranza qual è quella di salvare questi posti di lavoro? Certo, quando in ballo ci sono posti di lavoro, quindi lavoratori, ci vuol dire che ci sono in ballo tantissime famiglie e quindi è auspicabile che si possa dare una mano per risolvere questa problematica, ma soprattutto per ascoltarli e inquadrarli quale sia il problema. Grazie.